Questa sera avete vinto e consolidate la vostra prima posizione in classifica. Sì, è andata bene, siamo contenti, eravamo anche in sei, quindi meglio di così, non potevamo andare. Che partita è stata comunque? Dura, si sente la fiatone. Non tanto. Dura, però va bene, siamo una bella squadra, quindi per adesso ci è andato tutto bene. Questi primi giorni sono andate benissimo, perché comunque sia adesso siete a quota 15 punti in vetta la classifica. Sì, abbiamo da recuperare anche una partita che giovedì scorso non abbiamo giocato per via di problemi alle luci del campo, quindi insomma, in teoria potrebbe solo che andare meglio. Delle squadre che avete incontrato, c'è secondo te un antagonista che potrebbe rivelarsi in tale? Non lo so, i ragazzi di stasera mi sembravano comunque bravi, sono rimasti un po' spiazzati dal fatto che eravamo uno in meno, quindi delle volte non è facile giocare contro una squadra che corre il doppio e ci mette un po' di più. E tu che numereri questa sera? Zero, va bene, però tre di solito. Cosa vi aspettate quindi da questo campionato? Eh bene, ci aspettiamo di vincerlo, speriamo. Ognuno gioca per vincere, no? Sai quali sono i primi in palio quest'anno che il calcio Liguria offre? No. Le automobili? Automobili? Ok, sarà contenta mia moglie così mi sfascia anche questa. Ok, vediamo